Freddy Colt, state raccogliendo alcuna documentazione molto importante relativa ad artisti come Barzizza, ma non solo. È un'opportunità importante per il territorio e mi viene da pensare ad un progetto, se ne parla da tanti anni, il famoso Museo della Musica. È un sogno che deve essere però perseguito? Sì, noi al Centro Studi Stankenton, grazie al fatto che abbiamo una sede comunale nella Pigna, in Piazza Capitolo, ecco, lì nella Mediateca stiamo cercando di raccogliere dei materiali acquisendoli e a volte spontaneamente i familiari degli artisti ci vengono a regalare del materiale, a volte attraverso collezionisti otteniamo delle cose oppure li troviamo anche nei mercatini o da certi antiquari, ecco. E quindi ultimamente siamo riusciti a recuperare parecchio materiale, soprattutto manoscritti musicali di Pippo Barzizza, manoscritti di arrangiamenti, non so, di Papetti, un altro grande personaggio che ha vissuto nella nostra zona, non solo ma anche molti vinili, vinili abbastanza rari con composizioni di autori locali, canzoni dedicate a Sanremo, c'è una serie di canzoni in cui vengono citato il nome di Sanremo, abbastanza notevole, insomma. Quindi canzoni cantate da cantanti famosi di varie epoche, da Natalino Otto a in poi, insomma. Quindi tutto questo materiale noi stiamo cercando di raccoglierlo perché un domani potrebbe costituire anche un fondo utile per la costituzione del museo, perché il museo per conto mio è sempre un museo di storia musicale della città. Non solo del festival. E non solo del festival, per quanto il festival deve esserci e ben rappresentato perché è un po' la cosa che tutti conoscono, quindi però a me piace l'idea che un turista che viene a Sanremo e cerca il museo della musica o il museo del festival trova lì le cose legate a Nilla Pizzi piuttosto che a Alex Britti, però attraverso questa occasione in cui va a cercare queste cose scopre delle cose che non sapeva, scopre dei personaggi diversi, scopre magari Franco Alfano, scopre che ci sono stati dei cantanti lirici come Beniamino Gigli, scopre che c'è stato, non so, dei grandi cantautori, insomma, che hanno frequentato la città, che si sono legati più o meno, addirittura persone che sono partite dalla città e hanno fatto dei percorsi musicali. Insomma, secondo me c'è bisogno di questo strumento per valorizzare un po' tutta la nostra identità della città della musica. Partendo quindi già dall'Ottocento? Partendo, sì, quantomeno dalla metà dell'Ottocento, da quando Sanremo è diventata in effetti una stagione d'oro, cioè ha iniziato la sua stagione d'oro, è diventata una località di turismo d'elite, ecco, allora lì tutto si è dovuto in qualche modo adeguare a questi standard elevati. È nata lì la nostra banda civica di cui quest'anno ricorre il centocinquantesimo di fondazione, spero che si faccia qualcosa, spero che ci sia una celebrazione per la banda, il corpo bandistico città di Sanremo, perché è il discendente della banda municipale dell'Ottocento, che vinse dei premi delle medaglie d'oro in concorsi nazionali, che fu apprezzata da personaggi famosi come Perosi o Mascagni, insomma. E quindi tutto questo DNA che noi abbiamo dobbiamo saperlo vivere ancora oggi, non è che attualizzare se volete, ma comunque c'è, non è che, non è, non ci possiamo mettere una pietra sopra, non è archeologia morta, deve essere attualità, deve essere occasione anche per la crescita, diciamo, non solo turistica, non solo culturale, ma anche economica della città. Di questo e di altro, del fervore culturale locale, parleremo questa sera nella nuova puntata di Punto d'Incontro insieme a Freddy Colt alle ore 21.30 e alle 23.30. Grazie. 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 Grazie.